Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale perché in questo video vi spiego come rimuovere qualsiasi macchia, c'è una maglietta, ma anche macchie su quadri e cose così nelle fotografie quindi quello che dobbiamo usare è un pennello correttivo al volo, è molto semplice, lo troverete direttamente su Photoshop questa è una versione del 2020, ma ci sarà anche nel 2022, giusto, la versione nuova più aggiornata, quindi molto semplice ci cliccate sopra, così così, piano piano e si toglieranno così le macchie, molto semplice quindi dopo aver tolto le macchie possiamo anche convertire la maglia in un formato PNG nel senso rimuovere lo sfondo dietro senza danneggiare così la maglia, perché ho provato a rimuovere lo sfondo e mi ha tolto anche la maglia, quindi cosa ho fatto? ho preso il lazo, il lazo questo qua ho fatto un contorno intorno alla maglia e così facendo ho rimosso la maglia dallo sfondo trasformandola così in un nuovo livello ok, ho copiato il livello, eccola qua l'ho rimossa dallo sfondo sotto è rimasta l'ombra e quindi vado su, vediamo se lo trovo un livello nuovo allora, vediamo eccolo sotto, l'ultimo ok, questo rimuovo così lo sfondo perché non mi serve ok, e poi lo esporto come formato PNG ok, molto semplice quindi lo stesso vale anche per una fotografia non so, in una fotografia c'è una persona che ha una maglia con delle macchie sopra potete rimuoverle facile facile con questo pennello quindi io spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo io adesso salvo la mia maglietta e quindi grazie a tutti per questa visione se il video vi è stato utilissimo io ti consiglio di iscriverti al canale di attivare la campanellina e di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao